E' di 21 morti e 8 feriti il bilancio dell'attentato terroristico compiuto la notte scorsa contro una chiesa copta ad Alessandria in Egitto. Secondo un sito internet vicino alla comunità copta però i morti sarebbero almeno 45. Un'autobomba esplosa davanti alla chiesa di San Marco proprio mentre i fedeli uscivano dalla messa di mezzanotte. Dopo la strage un gruppo di cristiani è attaccato a una moschea vicina. Finora non ci sono state rivendicazioni ma da tempo la tensione tra musulmani e cristiani copti in Egitto è molto alta. Le autorità religiose musulmane e il presidente Mubarak hanno invitato gli egiziani alla calma e all'unità nazionale. Qualche tempo fa il gruppo di Al-Qaeda in Iraq aveva minacciato i cristiani egiziani.